Si rinnova anche quest'anno a Serarica di Corogna Leto l'appuntamento autunnale dedicato al pregiato marrone locale e torna anche il premio dedicato alla castagna. Ogni anno noi diamo questo premio della castagna d'oro, l'unzite d'oro ad un personaggio che si è elevato nell'attenzione del nostro territorio, dei nostri territori dell'entroterra. Quest'anno abbiamo individuato di concerto con la popolazione, con il presidente, il dirigente dell'istituto di Poppa. La professoressa Caterina Provvisiero verrà insegnata il giorno di domenica alle ore 16, quindi nella massima affluenza della manifestazione stessa, della castagna d'oro. Il sabato alle ore 10 apriamo gli stand, poi ci sarà l'arrivo della banda musicale Città di Accumuli. La sera avremo il concerto in Delta Sound e quindi un DJ chiuderà la serata. La giornata di domenica invece la apriamo alle ore 9 con l'apertura degli stand, quindi ci saranno degli artisti circensi che aglieteranno la mattinata. Nel pomeriggio avremo un bellissimo spettacolo fatto dagli Exentia e i due comici Pablo e Pedro. Quindi ci sarà la consegna dell'unzite d'oro e chiuderemo la serata sempre con un DJ. Quest'anno di concerto insieme alla Prologo e al Presidente abbiamo deciso di spostare il laboratorio di pensiero in un laboratorio di solidarietà. Abbiamo invitato la collettività di Accumuli con la banda del Paese che sarà con noi e con una folta delegazione del Paese stesso. Fin dall'inizio ho puntato su questa Repubblica di Senarica. Adesso è logico che raccolgo i frutti perché sto toccando con mano dai ristoranti, qualche posto letto, dall'affluenza, nonostante il periodo. Sto toccando con mano che la promozione del territorio fatta in una certa maniera paga.